ragazzi questa è un polpa appena tirata una femmina sarà un chilo e mezzo con zucca e melo però chieda vuoi dire che andiamo a un altro mondo con il stupendo che abbiamo zucca e melo come zucca ma non è che è bello zucca perché è bello zucca non c'è ne andamolo non si ce le dice una parola però ci facciamo l'aguribonnatalai ma non c'è cosa? niente ti raccomando e chieda la panza io penso che a natale manciamo un pochino pieno non so compagni i suoi figli manciano tanto se fanno illegale gli auguriamo tutto il bene di questo mondo giù se melone ti salutiamo a casa ma come è ah è bene si è bene si è bene ti manca la piccola ma non ti regaliamo chissà il secondo proprio per mettere la cattardina 500 euro io non che fosca lo sai bene bello scone 5 euro ma bene ciao a tutti ragazzi chissà un valore pazzo ciao